sia eccezionali surprise chi è bella di mamma no niente mamma un amico di francesco ma stava andando via e fai andrai c'è tanta roba da mangiare ciao e tu chi sei tanto piacere nicola oddio nicolino io sono la mamma di serena oddio quando si bella tutti belli siete qua e questa mia sorella clementina piacere quanto sei bello quando sei bello basta 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 zia non consumi mi raccomando non farei matta ignorante frangi accomodati pure facciamo spazio all'ospite diamo un piatto a nicola eccolo qua avete già consumato si mangia una cosa e adesso il gelato eppure un poco di amarena un poco per il bambino un poco per frangimio francesco un pochino per si clementina un pochino per mamma grazia eppure per serenella grazie anche meno eppure un poco per me non fa zardare giù stai giù da brava da brava cattiva cretina un altro po di gelato zii si metti in un po va tiè mangio un altro po di gelato prego zii com'è il gelato normale ma come tuo padre è uscito per te a comprare il gelato e tu dici è normale elton posso averne ancora ma certo tesoro di nonna magia che ti fa bene questo gelato allora non era così normale non era normale questo gelato com'era questo gelato buono come buono 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 eh sì ma che bella famiglia felice tutte le famiglie felici si somigliano ogni famiglia infelice è infelice a modo suo e tu stoi inizio di anna garieni no comunque i figli sono la cosa più bella che si sta io non ne so fatta una sola eh però toh guarda che meraviglia cara quanto si bella di te leperi va e va a responno va a responno e se non me la ssse va a responno ecco qua bravo che meraviglia questo gelato buono sei dormito è pure Nicolino